Un cortocircuito, l'odore acre delle fiamme, l'intervento di Vigili del Fuoco e la Galleria Fiabba Vafo, un museo a cielo aperto dell'arte moderna che ha rischiato di essere scheggiato da un incendio che ha mandato in frantumi, vetrate e distrutto diversi pezzi pregiati di porcellana. Le prime indagini della polizia hanno escluso la pista dolosa e i Vigili del Fuoco hanno confermato che a provocare l'incendio sia stato proprio un cortocircuito. Per i titolari della Galleria Fiabba che hanno impegnato fondi ed energie nell'allestimento della nuova esposizione, apprezzata anche delle liste specializzate, è scattata subito la convinzione e la determinazione di ripartire senza indugio già il giorno dopo. E l'attività della Galleria Fiabba non si è fermata un attimo e è andata avanti anzi con maggiore alene e impegno. D'altronde non avrebbe potuto essere un incendio a fermare un'azienda che vive dell'entusiasmo e della pervicacia dei propri titolari.